Parte il conto alla rovescia. Giovedì prossimo i primi giocatori del Catania si ritroveranno a Torre del Grifo per rispondere alle convocazioni di Mr. Pino Rigoli. Poi la squadra, al completo, sarà presentata alla stampa e ai tifosi. Subito dopo la partenza per il ritiro di Pietralunga in Umbria, il dirigente Pietro Lamonaco e del suo staff di mercato sono al lavoro per sfoltire la rosa. Vi sono troppi giocatori in organico da piazzare in prestito o cedere definitivamente. Hanno già fatto le valigie Garufo, Pelegatti, Rollin. In uscita c'è anche il fantasista Alessandro Rossina, ex Torino e Bari, che potrebbe passare alla Salernitana. Il Catania è ancora alla ricerca di una forte prima punta. Uno dei nomi più quotati è quello della Nisseno, di proprietà del Verona, Ernesto Torregrossa, ma il ragazzo non vuole scendere di categoria. Pietro Lamonaco non si arrende e sarebbe pronto ad alzare la proposta economica per convincere il giovane centravanti. In fine settimana sarà lanciata la campagna abbonamenti, obiettivo principale superare le 6.000 tessere.